Il Piano Casa Nazionale Il Piano Casa Nazionale e poi quello regionale hanno il peccato di ricondurre al ciclo dell'edilizia l'unica ipotesi di rilancio dell'economia, laddove, dal punto di vista ambientalista, c'erano tante altre opportunità. Così scrivevamo nel maggio del 2010 sul numero della nostra rivista La Vita e il Pioppo, per mettere in guardia i comuni dal prendere il piano casa come panacea di tutti i mali. Sei mesi dopo ci siamo trovati a dover apertamente manifestare, con il convegno Un'altra Casa, tutte le nostre contrarietà, anche al progetto che il Consiglio Comunale di Succivo ha approvato in deroga gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla Costituzione. Durante il dibattito è stata sottolineata l'organizzazione senza regole e gli effetti sull'anima dei luoghi e la vivibilità, introdotta da un video realizzato dal Laboratorio TV dello sportello Ambiente e Legalità di Geofilos. Ha introdotto, con un proprio contributo, Gabriella Corona, storica dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo e primo ricercatore del CNR di Napoli, che ha poi coordinato i vari interventi. La parola è passata da Antonio Pascale, presidente del circolo Geofilos Legambiente e responsabile dell'Energia Legambiente Campania, che ha mostrato i dati delle effettive tendenze demografiche che sono già in evidente contrasto con le previsioni del piano regolatore vigente, nonché con quelle addirittura maggiorate del piano casa. È stato così posto l'interrogativo sull'utilità di sfruttare solo gli strumenti di espansione che il piano prevede, rinunciando a quelli di riqualificazione. Il magistrato della procura di Santa Maria Capoavetere, Donato Ceglie, ha fatto il punto sui guadagni che spesso le organizzazioni malavitose ottengono da speculazioni edilizie. Il confine tra lecito e lecito nel settore delle costruzioni è sottile e spesso tale limite viene ulteriormente ridotto dai condoni. Soprattutto in Campania, ma non vanno meglio Calabria e Puglia, dove i vasti territori sono stati deturpati. Questa era la Campania Felix, uno dei territori benedetti da Dio, uno dei posti più belli del mondo e tantissima bellezza c'è ancora. Non ci possiamo permettere che sia devastata, come è stata negli ultimi decenni, quanto resta di questa straordinaria bellezza che abbiamo ereditato dal passato. Noi abbiamo una responsabilità enorme nei riguardi delle generazioni future. Noi dobbiamo cercare di restituirgli quello che noi abbiamo avuto la gioia di poter vedere nei decenni passati. Quindi dobbiamo conservarla questa campagna, questi luoghi che sono ancora intatti, il che significa che dobbiamo bloccare l'espansione edilizia, dobbiamo fermare la crescita delle città. Questo deve essere un obbligo morale che credo i cittadini e le amministrazioni debbano assumere il più rapidamente possibile. Bezio De Lucia, urbanista e redattore del piano territoriale della provincia di Caserta, ha posto l'accento sul fenomeno di espansione edilizia orizzontale e sui riflessi negativi dell'abusivismo nel corso degli ultimi decenni. Il dottor De Lucia ha chiarito che dopo la seconda guerra mondiale l'incremento della superficie urbanizzata non è più proporzionale alla crescita della popolazione. In rapporto all'incremento delle unità abitative, ci ha detto, stranamente non vengono mai soddisfatte le richieste di case, soprattutto in provincia di Caserta. Si concentra il massimo bisogno abitativo di tutta Italia. Questo perché vengono costruite abitazioni che non soddisfano le esigenze dei cittadini, piccole e spesso lontano dei servizi, e chi non ha un mezzo di trasporto autonomo resta fuori dal cuore delle città. Infine, Enrico Fontana, dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente Nazionale, condivide con la platea la difficoltà di stilare ogni anno il rapporto eco-mafia. Amo il sud Italia e amo la Campania, confessa Fontana, ed è pesante verificare che la Campania, la Calabria e anche la Puglia e la Sicilia si contendano il primato degli illeciti ambientali, risultando tra i primi posti in quasi tutte le classifiche nazionali per reati contro il territorio. Purtroppo è anche vero che il settore dell'edilizia è quello che maggiormente soffre della crisi economica, ma piuttosto che provvedere a costruire nuove abitazioni, spesso abusive, si dovrebbe riqualificare l'esistente, consolidare e rendere efficienti gli edifici pubblici, recuperare centri storici che rappresentano l'anima vera dei luoghi, la storia, le tradizioni e la memoria dei paesi e delle grandi città. Siamo venuti qui per proporre all'amministrazione cumulare di Succivo un patto, stop al consumo del territorio, sia la riqualificazione del patrimonio che esiste, immaginiamo un nuovo modello di sviluppo, un patto semplice per la legalità e per la sostenibilità. Troppo spesso dietro le speculazioni immobiliari ci sono interessi poco leciti, c'è tanta illegalità, bisogna essere preoccupati, alzare la guardia e dare risposte diverse a un'economia che ha bisogno di nuove opportunità. Noi lanciamo questa sfida, speriamo che l'amministrazione cumulare di Succivo lo raccolga. Noi lanciamo questa sfida, speriamo che l'amministrazione cumulare di Succivo un'economia di Succivo un'economia di Succivo. 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 Grazie a tutti.